Promuovere l'artigianato di qualità per sostenere la crescita economica della città. Un bando pubblico del Comune di Napoli offre un'importante opportunità alle giovani imprese, ma anche ai potenziali imprenditori del settore orafo. Il Borgo Orefici e il suo prezioso artigianato hanno una tradizione antica, che risale all'epoca angioina. I gioielli della Manifattura Cittadina brillavano alla corte rinascimentale aragonese ed erano famose in tutta Europa le meraviglie dell'oreficeria barocca napoletana. I progetti vincitori del bando saranno ospitati per quattro anni negli spazi dell'incubatore La Bulla, nel cuore del Borgo Orefici, e riceveranno servizi e supporto per la crescita e il consolidamento dell'attività. Sono otto secoli che in un angolo di Napoli gli orafi producono per le regine, per le donne, per le persone di gusto di tutto il mondo, dei prodotti straordinari. Nella Bulla ci sono degli spazi per tre imprese, per persone che vogliono imparare, crescere e sviluppare un'antica arte, ma con le tecnologie moderne. C'è un progetto al quale stiamo pensando che si chiama Emozione Napoli. Lo spiego così, immaginiamo due giapponesi che entrano in un ristorante italiano a Tokyo e viene loro servita una bottiglia di pere palumbo. Adesso è possibile avvicinare il telefonino all'etichetta e ricevere tante informazioni su quel vino. Io vorrei che fosse possibile ricevere anche informazioni su Napoli, per raccontare che nei lavori della metropolitana è stata scoperta una statua, una nave, qualcosa di bello, per raccontare che a Napoli c'è un'attrice famosa che sta girando un film, far vedere in anteprima qualche scena del film, far vedere i gioielli magari che ha comprato questa signora e per vendere l'emozione di questa città. Mi aspettando il momento di invitare questa coppia di giapponesi nella nostra città e per offrire loro magari una cena in un ristorante elegante dove possano provare quella bottiglia di vino che le ha fatti entrare nel mondo di Emozione Napoli. Il bando scade alle ore 12 del 30 marzo. È possibile chiedere incontri di assistenza tecnica all'indirizzo info-borgo-refici.it mentre le informazioni per partecipare al bando sono su www.comune.napoli.it e per la partecipare al bando sono sull'indirizzo info-borgo-refici.it e per la partecipare al bando sono sull'indirizzo info-borgo-refici.it